Zidane con l'esterno per il Buitre senti il poato del Bernabeu per Emilio Butraghegno grande palla in area di rigore per Ivan Perez porta vuota e 2 a 1 l'assist di Dani Garcia il gol di Ivan Perez ma nel tabellino segnate il Buitre mamma mia, molto simile al gol della Juve una bella triangolazione, lunga anche in questo caso però la genialata del Buitre certo se non ci fosse stato l'attacco alla profondità su quella fascia destra questo passaggio non poteva essere stato sviluppato però guardate che palla sul filo del fuorigioco, dietro le spalle Sergio Porrini e poi tutto molto molto facile lì in mezzo Tocco di Dani Garcia un po' corto Montero si era buttato anche da terra ci ha provato Ivan Perez con grande freddezza direi è riuscito a mettere il pallone in porta un minuto di gioco si, si, si accentuale realizzativa media minuti per lui davvero straordinaria grazie a tutti grazie a tutti